Svariate tonnellate di rifiuti speciali, molti dei quali anche pericolosi, abbandonati in un'area di circa 2000 metri quadrati a San Giorgio di Susa nel Torinese. E' una vera e propria discarica abusiva quella scoperta dalla Guardia di Finanza che ha segnalato alla procura il legale rappresentante della società responsabile dello stoccaggio di rifiuti. A suo carico, oltre a una sanzione di oltre 10.000 euro, la bonifica dell'intera area. Proseguono gli accertamenti delle fiamme gialle in concorso con gli enti competenti al fine di verificare l'eventuale contaminazione ambientale causata dallo sversamento dei prodotti. Nel terreno sono state trovate carcasse di automobili, batterie esauste, oltre 3.000 litri di olio usato e 3 tonnellate di materiale ferroso.